Gentili telespettatori, buona giornata. Sono state poi chiuse le indagini su quel famoso caso dei rubli che fantomaticamente avrebbero spedito alla Lega, che Salvini ha sempre detto che non ha mai ricevuto un rublo, forse sono andato una volta e sono tornato con una matriosca da regalare, ma non ho mai ricevuto soldi. La conclusione delle indagini dicono che Salvini non sapesse nulla e non ha ricevuto nessun euro, nessun rublo. Mentre i magistrati dicono che il tentativo di finanziamento illegale internazionale la Russia l'ha fermato quando ha capito che erano stati scoperti. I giornali avevano tentato di infangare la Lega, Salvini, Savoini dice che quello che era successo a Berlusconi lo stavano per fare, a Salvini che era una trappola per incastrarlo. Lui, Savoini, dice che la giustizia funziona perché con me non posso lamentarmi, mi hanno archiviato e sono sempre comportati correttamente con me, non ho patito restrizioni né spiacevoli inconvenienti. Certo, tre anni e mezzo, ho sempre continuato a fare il mio lavoro e andare in Russia, sono rimasto sotto scacco la Lega e Salvini per una montatura mediatica che non aveva alcun risvolto penale. Il bersaglio vero non ero certo io, hanno tentato di fermare Matteo e in parte ci sono riusciti, come tentarono per vent'anni di fermare Berlusconi e più recentemente la Meloni con quella buffonata delle accuse di fascismo a Carlo Fidanza. Su Carlo Fidanza io avevo espresso la mia opinione, amico di lunga data della Meloni, ma quando viene beccato dalle telecamere che fa i saluti romani nei bar e nei ristoranti a Milano e che parla di birrerie di Monaco, insomma, buffonata di accuse di fascismo non mi sembra proprio, caro Savoini, forse quella su Fidanza la potevi lasciar perdere perché, insomma, gli italiani non è che sono un po' così sciocchini. Se c'è uno che fa i saluti romani e viene ripreso dalle telecamere e va a parlare di eventi successi in quegli anni, la birreria di qua e di là, non è fascismo? Non è post-fascismo? È solo una goliardata? Alzava il braccio così? Perché era per sciogliere i muscoli? Vabbè, andiamo avanti. Dice Savoini, io non faccio la vinti, ma punto l'indice, l'inchiesta contro di me è una macchinazione del sistema mediatico politico globalista. E là là, sistema mediatico politico globalista, che ha creato e tenuto in piedi per anni questa robaccia basata su intercettazioni illecite e prive di ogni valore. Ora che ne sono uscito, la macchina del fango insiste per insozzare Salvini. Dicono che sapeva tutto e avrebbe dato l'assenso, ma preteso di rimanerne fuori. L'assenso a che cosa, però, se non solo non ci sono stati reati, ma neppure fatti? Dice, scriverò un libro. Che cosa dicono i magistrati? Come vi dicevo, si stava per materializzare una maxi tangente di 50 milioni di euro, ma il reato in Italia è quando c'è la tangente, ma anche quando ti stai mettendo d'accordo. I magistrati dicono, non abbiamo potuto incriminare queste persone perché erano ancora in una fase embrionale, cioè si stavano per mettere d'accordo, ma non si stavano ancora mettendo d'accordo. Quindi non si può formulare un reato che comporta il fatto che si stavano per mettere d'accordo. Perché quando si stavano per mettere d'accordo, la Russia ha fermato tutto perché erano usciti gli audio. Quindi non c'era ancora la proposta russa di un accordo, quindi si stavano per mettere d'accordo. I magistrati non possono incriminare queste persone sul si stavano mettendo d'accordo. Avrebbero potuto farlo se si fossero messi d'accordo per una tangente. Quindi nei reati italiani viene compreso anche il ti stai mettendo d'accordo è un reato. Anche se non hai preso soldi, ma ti stai mettendo d'accordo è un reato. Ma stai lavorando per metterti d'accordo non può essere un reato. E quindi tutti scagionati, però qualcuno, come dice Savoini, c'è qualcuno che dice Salvini sapeva tutto di quello che si stava per materializzare e ha detto lasciatemi fuori. Questo l'ho trovato scritto su dei giornali di sinistra, che l'avevano scritto in prima pagina. Infatti anche Savoini dice c'è qualcuno che adesso vuole insozzare Salvini, dicono che sapeva tutto e avrebbe dato l'assenso, ma preteso di rimanerne fuori. E poi dice non esiste la vicenda del Metropol, lì non ho nulla da spiegare. Scriverò un libro sul tentativo della sinistra di sgambettare il governo, visto che ai tempi Salvini era ministro dell'interno attraverso accuse infondate. Savoini è stato per anni il tramite dei rapporti tra il leader della Lega e la politica grazie all'attività di Lombardia-Russia, associazione di cui è presidente Savoini. Ha seguito a lungo bossi prima della malattia del leader e finito nei guai dopo la divulgazione a mezzo stampa dell'audio di una conversazione tenutasi nell'ottobre del 2018 nell'atrio del Metropol, albergo moscovita, tradizionalmente teatro di complotti e spionaggio. L'accusa corruzione internazionale era di aver tramato per spuntare una tangente di 65 milioni di euro da girare in parte alla Lega per finanziarne la campagna elettorale dell'europea del 2019, da una compravendita petrolifera di un miliardo tra una società pubblica russa e una controllata di Eni. Ma non ci fu mai nessuna compravendita. Non si è trovato un solo rublo nelle tasche degli indagati e tantomeno nelle casse della Lega. E sull'audio, fonte dello scandalo, aleggiano più misteri che certezze. Di conseguenza, dopo lungo penare, il fascicolo Savoini è stato archiviato dai magistrati. Per forza, commenta, tutte le accuse tirate fuori dai cronisti dell'Espresso, sulle quali sono stati fatti pure due libri, valgono. Zero. Ma dicono, ma scusi lei, però Savoini, lei al Metropol c'era. Dice, io sono stato invitato a Mosca con Salvini dalla Confindustria russa, che aveva organizzato incontri con gli imprenditori italiani in un altro hotel e mi avevano prenotato al Metropol la stanza per la notte. Per questo ero lì, ci dormivo, per la prima volta in vita mia, e non mi ha portato fortuna. Bene, grazie a tutti e arrivederci. A presto.